Un saluto dal Tg della mobilità per lavori via della Magliana è chiusa tra via del Fosso della Magliana e via delle Vigne. Sono deviate le linee 128, 719 e N719. Le linee 719 anche nella versione notturna verso Piazzale dei Partigiani e Stazione Trastevere da via della Magliana, proseguono per via Fosso della Magliana, via Portuense, via del Trullo, via Sarzana, via Montecucco e Piazza Mosca. Verso via Candoni invece alla Piazza Mosca proseguono per via Sarzana, via del Trullo, via Portuense, via Fosso della Magliana e via della Magliana. La 128 verso viale Baldelli, da via della Magliana continua su via del Fosso della Magliana, via Portuense e via del Trullo. Verso viale Crocco, da via del Trullo prosegue per via Portuense, via del Fosso della Magliana e via della Magliana, temporaneamente sospese, 14 fermate. Per ora è tutto, appuntamento alla prossima edizione.